Attenzione, gossip in arrivo. Gli attori Ryan Gosling e Margot Robbie hanno fatto sensazione con l'annuncio della loro partecipazione nel film Barbie. Tutti si aspettavano delle scene piccanti tra questi due attori affascinanti, ma a sorpresa, sia Robbie che Gosling hanno espresso sollievo per la mancanza di baci appassionati sul grande schermo. E la ragione vi sorprenderà. In un'intervista esclusiva con People, Margot Robbie ha condiviso un aneddoto interessante sulle reazioni dei suoi amici quando hanno scoperto che avrebbe recitato accanto a Ryan Gosling. Tutti si aspettavano delle scene d'amore tra i due, ma il film ha preso una direzione inaspettata e ha esplorato un tipo di romanticismo diverso. E cosa ne pensa Margot Robbie di non dover partecipare a scene appassionate con Ryan Gosling? La risposta, sorprendentemente, è stata purtroppo, no. Margot Robbie, nota per le sue performance autentiche e versatili a Hollywood, ha rivelato la dinamica unica tra il suo personaggio e quello di Gosling, svelando le norme e gli standard dell'industria cinematografica. La mancanza di scene piccanti ha permesso ad altri aspetti del film di emergere. Le sequenze di ballo di Gosling hanno attirato molta attenzione, mentre la partecipazione di Margot Robbie come produttrice aggiunge un ulteriore elemento intrigante alla sua alchimia sullo schermo con Gosling. Gli spettatori sono rimasti affascinati dal loro legame, basato su battute spiritose, momenti condivisi e un mix unico di fascino e vulnerabilità. Invece di fare affidamento su manifestazioni fisiche esplicite di affetto, la connessione dei loro personaggi in Barbie si basa su un'intesa molto più profonda e significativa. L'esclusione di una scena piccante tra i personaggi ha aggiunto più umorismo e innocenza al film, lasciando un impatto duraturo a Hollywood, con un incasso di oltre 1,2 miliardi di dollari. Greta Gerwig è diventata la prima regista donna a raggiungere il miliardo di dollari e il film è il più alto incasso dello studio WB. Ryan Gosling ha successivamente espresso rammarico per le scene tagliate, ma ha ammesso di essere stato sollevato dalla loro rimozione. In conclusione, Barbie ha superato le aspettative, offrendo una nuova prospettiva sul romanticismo sul grande schermo e dimostrando che l'autenticità e la connessione possono trionfare sulle convenzioni tradizionali. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti alla prossima!